...europeo di giornata, occhio Van der Putten, Ganno Bonni dietro con anche abbraccio, davanti con l'avventura al centro, Van der Putten, Van der Putten... ...e poi non va, era quello che ci si potrebbe aspettare così è infatti. ...e l'ha sbagliato, no! vediamo intanto che viene superato il suo lodo che il nostro attaccato dal giro precedente avanti continua a guardare Van der Putten a dominare andiamo a vedere adesso il primo passaggio lanciato ottimo 49.550 nel primo giro con partenza da fermo vediamo adesso il primo passaggio con il giro lanciato per parte di Martesi intanto l'ultima per la punta in piena sempre Amada aveva nel giro precedente 2 secondi a 28 un vantaggio sul secondo che ha traccio è Jakub Novotnik che è in terza posizione a circa 3 secondi vediamo adesso se migliora ancora il suo tempo sul giro e il distacco in assoluto è l'ultima di chi è in terza posizione a circa 3 secondi a 4 secondi ad Andiamo a vederli al terzo passaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.